Sara Marcozzi, due volte candidata alla presidenza della Regione Abruzzo con il Movimento 5 Stelle e capogruppo in questa legislatura, lascia ufficialmente il Movimento e aderisce a Insieme per il Futuro, il nuovo gruppo costituito da Luigi Di Maio. Per ora sarà solo una forza parlamentare, ma poi diventerà un partito. L'annuncio è arrivato questa mattina a Pescara nel corso di una conferenza stampa. Una scelta molto sofferta, inevitabile perché il Movimento 5 Stelle non è più il Movimento 5 Stelle del 2013 e per alcuni aspetti va bene, per altri però il Movimento 5 Stelle avrebbe dovuto cambiare pelle, diventare più democratico, ripartire dai territori, coinvolgere più persone possibili a livello comunale e regionale, invece è diventato sempre più autoritario, è diventato il partito di Conte con nomine calate dall'alto purtroppo e pochissima condivisione e partecipazione. È una totale impossibilità di dialogo e di confronto. Noi non abbiamo spazi di dialogo e confronto. Chi prova ad alzare la mano, sollevare una questione e discutere di qualcosa, vedi Luigi Di Maio, viene linciato dalle batterie di agenzie parlamentari che francamente reputo un po' indecorose. Nel suo intervento ha anche detto che le beghe interne in fondo ai cittadini interessano poco, però quali sono allora i vostri punti di riferimento? Come ripartire? Interessa un paese che riparte, una regione che riparte, stiamo ancora combattendo con la pandemia, quindi ai cittadini interessa non ripiombare nelle chiusure, nei lockdown, questi credo che siano i temi dei cittadini. Quello che noi ci proponiamo di fare con Insieme per il Futuro e Luigi Di Maio è partire dai problemi, mettere al centro soltanto problemi e soluzioni, evidentemente per tutti questi problemi, a prescindere dal colore politico, a prescindere dal background che ognuno di noi si porta dietro e quindi mettere insieme tutta la società civile che ci vuole stare, tutti. Per ora forza parlamentare, poi? E' oggi una forza parlamentare perché conta 60 e più parlamentari, ma il progetto è quello di partire proprio a coinvolgere amministratori locali, sindaci, consiglieri comunali, amministrazioni regionali. E diventare un nuovo partito? Sì, però con una visione che non punti alle differenze tra un partito e l'altro, alle ideologie, ma soltanto a elencare quali sono i problemi e a fare un elenco parallelo con quali possono essere le soluzioni. Al momento non sono quantificabili in Abruzzo gli esponenti 5 Stelle disposti a seguire Di Maio, specialmente sul territorio, mentre a livello parlamentare le adesioni non sono mancate. Insieme alla Marcozzi, infatti, con lei nella conferenza erano presenti il senatore Primo Di Nicola e il deputato Gianluca Vacca.